Okinawa a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Clash of Clash signori e quest'oggi come potete vedere siamo nel primo account e abbiamo i depositini ultra pieni quindi andremo a spendere tanti tanti bei milioncini e andremo a maxare un po' di cosettine ma signori non è finita qui perché questo pomeriggio saremo in live e ovviamente continueremo la nostra scala verso il maxat quindi mi raccomando ci vediamo puntuali 15.30 massimo 16 saremo in live attivate la campanellina per ricevere la notifica in modo da non perdervi nessun miglioramento ovviamente signori prima di iniziare voglio ricordarvi che se volete supportare il canale finalmente signori abbiamo sbloccato gli abbonamenti del canale quindi vi basterà andare su youtube cercare Ciris e cliccare su abbonati ovviamente ci sono vari livelli di abbonamento tra cui Okinawa Basic, Okinawa Super, Okinawa Master e Okinawa Supremo che è praticamente l'abbonamento finale signori ogni livellino avrà le sue ricompense tra cui andiamo a vedere Okinawa Basic avrete un bello di fedeltà accanto al vostro nome molto molto carino delle emoji personalizzate da utilizzare magari nelle live che faremo insieme aggiornamenti di foto è stato risposta prioritaria ai commenti e soprattutto un town hall review che è molto molto interessante con Okinawa Super avrete tutte le ricompense precedenti più l'accesso in anteprima ai nuovi video signori che significa che se io vado a programmare un video che uscirà magari tra un giorno o due giorni voi lo potete vedere in accesso anticipato è molto molto interessante ringraziamenti agli abbonati e ovviamente collegamento con i vari social media con Okinawa Master avrete sempre le ricompense precedenti più la possibilità di giocare insieme a me registrare un video insieme se avete un'idea interessante e soprattutto dei video riservati soltanto a voi che nessun altro potrà mai vedere se non voi che vi siete abbonati a questo livello con Okinawa Supremo oltre a tutte le ricompense precedenti avrete in più anche il gruppo Whatsapp direttamente con me dove possiamo parlare tutti i giorni quello che volete di Clash of Clans e di varie cose quindi mi raccomando signori se volete supportare il canale e aiutarmi un pochettino non vi resta di cliccare su abbonati e scegliere uno dei livelli che vi piace di più inoltre voglio invitarvi a condividere il video con i vostri amici importantissimo signori perché più stiamo e meglio è soprattutto ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti a voi non costa nulla a me fate un piacere enorme, immenso se attivate anche la campanellina rimanete sempre ai giornali su tutti i video che vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato tutti i giorni 14.30 puntuali sul canale mi raccomando signori mi raccomando ma passiamo subitissimo al video di quest'oggi abbiamo tante belle cosettine da fare e purtroppo forse troppe poche risorse ma va bene quello è un altro problema che poi cercheremo di ovviare il più possibile allora andiamo a controllare gli artefatti perché oltre ai depositi pieni abbiamo anche una bella runettina dell'oro una runettina dell'elisir, una dell'elisir nero soprattutto, soprattutto importantissimo quattro libricini delle costruzioni un libricino delle pozioni, un libricino degli eroi un martello delle costruzioni un martello della guerra 13 anellini delle mura che sono comunque interessanti e nel passo signori abbiamo un altro libricino degli edifici e due libricini degli eroi quindi mi raccomando cerchiamo di spenderli nel modo migliore possibile questo è l'episodio che io stavo aspettando più di tutti quanti non so se magari anche voi lo aspettavate da tantissimo tempo ma andiamo ad utilizzare tutti questi bei martellini che abbiamo accumulato con il tempo e direi che è molto molto interessevole vorrei iniziare subitissimo con mettere il primo miglioramento signori che è questo bellissimo arco x a livello 11 ce lo portiamo subitissimo e come per magia signori libricino e subito maxed ottimo così direi che intanto per iniziare non è male vorrei fare anche un rinforzino della tesoreria giusto per regolarmi più o meno su quante risorse abbiamo perché possiamo mettere a migliorare questa capannina del costruttore prima di utilizzare la runelloro quindi ci facciamo un paio di attacchini ma prima di fare ciò dobbiamo spendere un po' dell'isire perché se no è quanto e niente ce ne abbiamo veramente veramente tanto allora la cosettina che mi interessava di andare a fare principalmente è mettere magari la medusa furiosa che potrebbe essere interessante per la comunque maxed quindi intanto la mettiamo di un livello e possiamo utilizzare il libricino di eroi guardate che goduria utilizzare tutti questi bei libricini non la possiamo ancora portare al massimo ma va bene ci abbiamo 84.000 di elisire nero che come lo possiamo spiegare signori 84.000 di elisire nero volendo noi lo possiamo utilizzare su una pozzoncina volendo su una pozzoncina ci potremmo ci potremmo portare su magari l'incantesimo veleno perché comunque ce l'abbiamo bassettino però non è che noi utilizziamo tanto di elisire forse quello rapidità ce lo maxiamo ne utilizziamo di più facciamo così signori utilizziamo subito il libricino bellissimo delle pozzoncine e poi con il martellino io vorrei portare sui domatori di un livello voi direte perché Ciris sprechi un martellino per 140.000 di elisire nero perché signori mi servono i domatori al livello 10 perché presto arriverà un video a riguardo quindi mi raccomando rimanete sempre sempre sintonizzati utilizziamo il libricino così ce l'abbiamo subito perfetto e per il momento stiamo abbastanza a posto poi andiamo a fare un bel riempi del depositino di elisire nero soprattutto controlliamo negli artefatti finalmente abbiamo lo spazio per metterci anche un bel libricino degli eroi e quindi intanto ce lo pigliamo e direi che ce sta ci mettiamo a fare un altro famiglio maxato e via ce l'abbiamo subito maxato quindi direi ottimo così con l'elisire nero rimanente 128000 noi signori ci mettiamo a fare un altro livello dello yak perché ce l'abbiamo basso tanto prima poi dobbiamo maxarli tutti ci sono rimasti soltanto questi tre iniziali il resto ce l'abbiamo tutti maxato e direi che è abbastanza interessevole così e per il momento con l'elisire nero abbiamo finito adesso passiamo all'elisire normale l'elisire normale signori che abbiamo noi qui negli artefatti abbiamo martelline costruzioni ok non è un problema per il momento libricino ok va bene possiamo spenderli tranquillamente quindi quindi come possiamo spendere al massimo queste nostre risorsine io direi che signori andiamo a mettere qualcosa che ci costa un pochettino quindi volendo possiamo portarci su gli arcieri tanto per non li utilizzo in realtà però prima o poi li dobbiamo tirare su quindi va benissimo così un bel po' di elisire ce lo siamo buttato via con il rinforzino ci prendiamo un altro po' di elisire vediamo se riusciamo a fare magari un murettino nel mentre e poi con la runettina ci facciamo altra robetta allora facciamo così un altro muretto lo facciamo con gli anellini un altro muretto ancora ci riusciamo con gli anellini quindi ottimo ottimo abbiamo 3 milioni e 9 quindi quasi 4 per arrivare a 4 milioni e 8 ci manca veramente poco probabilmente con un attacchino ce la facciamo qui le truppe sono ancora in addestramento mettiamo un bel velocizzo così facciamo magari anche un terzo attacco interessante perché dobbiamo sfruttare al meglio queste risorse dobbiamo arrivare almeno a 9 milioni e 600 quindi andiamo a cercare subitissimo un bello obiettivo succulento che abbia almeno circa un milioncino e mezzo per dirvi sarebbe interessante questo qui non c'ha un milioncino e mezzo c'è soltanto 800 mila d'oro è poco dobbiamo cercare di ottimizzare al meglio possibile tutte le risorse quindi dobbiamo trovarlo bello bello strong tanto abbiamo l'esercitino che è bello interessante che comunque signori fa i bei danni prima ci ho distrutto uno maxed mentre facevo un po' di riempimento dei depositi finale e direi che è bello bello interessante io mi sto trovando molto molto bene se non l'avete provata questa convenzione provatela in caso trovate anche sul canalino il video dedicato precisamente su questa qui che secondo me raga attualmente merita davvero davvero tanto poi va bene ne sto a parlare troppo quindi probabilmente il primo attacco che andremo a fare sarà una merda più totale però va bene ci stiamo mettendo già troppi skip quindi io vi dico signori che no non vi dico niente perché eccolo l'abbiamo trovato questo è il villaggino perfetto che noi dobbiamo attaccare e distruggere bellissimo così bellissimo così io vorrei mettere una di queste qui con i nostri maghetini così intanto buttano giù il bel monolito e tutto il resto signori ce lo piazziamo qui come se non ci fossero domani diretti senza pensarci troppo è inutile non ci interessa se c'è la eagle in vita perché noi dobbiamo andare cattivi proprio a piesellino d'urgito di cattiveria addosso a tutto il municipio dobbiamo distruggerlo malamente un'altra gelo ce la piazziamo subitissimo stiamo attenti perché nella zona centrale signori ci stanno un sacco di torri inferno che ci fanno molto male quindi blocchiamo il tutto perfetto stiamo entrando veri veri cattivi signori veri veri cattivi attiviamo l'abilità della campionessa perché quella torri d'inferno ci potrebbe dare molto fastidio distrutta direi ottimo così ottimo così non ci resta che attivare l'abilità del sorvegante madonna signori me ne so accorto l'ultimo secondo fortuna che ho fatto in tempo perché se no con l'abilità del sorvegante prendevamo un bel po' di danno sulle nostre truppettine non ci resta che aspettare che finiscono di pulire tutto quanto il villagino ovviamente questo era facile raga c'aveva i murettini molto molto bassi quindi lo squagliamo malamente però vi devo dire che sono riuscito a fare tre stelle con questo esercitino anche a un full maxed che aveva quasi tutti i muri maxed ci mancava veramente poco quindi devo dire molto 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 interessevole allora ci siamo portati a casa le nostre belle risorsine super super oneste stiamo già quasi a nove milioni no stiamo a nove milioni quindi ci rimane un novecentomila di attacco da dover fare e direi che è molto interessevole ovviamente signori c'è rimasto pochissima robettina gli eroi stanno in vita direi che ce le gemmiamo e via che ce frega possiamo mettere in addestramento i super barbarelli che magari ci facciamo un terzo attacchino anche con quelli intanto andiamo a cercare il nostro prossimo obiettivo che dobbiamo trovarlo sempre da circa un milioncino sarebbe interessante così ci mettiamo a fare l'ultima costruzione e direi che ci sta allora e poi utilizziamo ovviamente la pruna dell'oro che è molto molto sexy possiamo attaccare anche questo ma secondo me si signori un milione di oro ce l'ha quindi a noi ce va più che bene ho messo un po' di pulizia lì un po' di pulizia qui tutto il resto lo mandiamo a pisellino duro sempre qui di cattiveria signori senza ragionarci troppo vai diretti i primi tre raggi sono partiti poi blocchiamo geliamo tutto mettiamo una bella cura e vai così di nuovo gelo perché se no ci esplode tutto lì con il motorito e l'artiglia di acqua la so veri veri pericolose una bella cura ce la mettiamo verso il municipio e attendiamo semplicemente che il nostro esercitino distrugga tutto quanto perché è veramente strong direi molto adesso sto utilizzando un po' troppe parole in inglese non va bene signori non va bene Ciris non sei madrelingua padrelingua quindi meglio che parliamo in italiano che almeno stiamo sicuri che non diciamo cazzatine comunque TH ha buttato giù direi molto onesto signori finiamo la pulizia finale tra pochissimo attiviamo anche l'abilità terra e barbaro così facciamo una pulizia un po' più velocina bello lo Yeti che sta qua su che sta distruggendo intanto il depositino d'oro direi tanta roba questo c'ha 14 capannette qua sotto che ce le andiamo a distruggere tutte quante adesso così con un click belle 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 boom 100% ce lo siamo portati a casa 10 milioni direi veri veri interessanti allora possiamo andare a mettere in miglioramento una capannetta del costruttore e per il momento questa la lasciamo andare ok utilizziamo subitissimo l'elisire per farci un nuovo murettino così ci siamo consumati un bel po' anche di elisire possiamo tranquillamente utilizzare runa dell'elisire runa dell'oro e signori siamo di nuovo full prontissimi per mettere il primo archettino X e ce lo utilizziamo il libricino ma che facciamo certo che ce lo utilizziamo signori ovviamente ce l'abbiamo già maxed questi tra due giorni saranno maxed quindi direi molto 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 interessivoli con l'elisire signori noi possiamo tirarci su attualmente anche il nostro bellissimo gran sorvegliante visto che è il 65 tra poco sarà maxed non manca tanto e ci abbiamo non ce l'abbiamo il libricino della guerra non è vero ho detto una cazzata no non è vero ce l'abbiamo il libricino degli eroi attenzione ce l'abbiamo che dico che dico me l'ero scordato che stava nel pass signori quindi ce lo andiamo ad utilizzare subito fortuna perché stiamo sotto guerra quindi mi serviva assolutamente il sorvegliante ottimo così ok ho avuto un attimo quel brividino di paura però va bene però va bene tutto risolto 6 milioncini 7 milioncini di elisir non ci possiamo fare gran tanto non ci possiamo fare gran tanto ma possiamo controllare un secondino tra gli artefatti abbiamo altri due libricini delle costruzioni e signori magari li utilizzeremo probabilmente questo pomeriggio alle 16 15 e 30 16 saremo in live quindi mi raccomando siate puntuali passate anche solo per un saluto a me fa veramente molto molto piacere e andiamo a continuare il maxed bello bello abusivo siccome abbiamo un martellino che noi possiamo utilizzare un martellino perché non usarlo sulla prima delle torri inferno direi che è molto interessante anche perché oggi pomeriggio se riusciamo ci facciamo anche quest'altre due tranquillamente ci utilizziamo anche i libricini e siamo super mega mega potenti e abbiamo quasi fatto tutto con maxed ci manca veramente poco come sfruttiamo queste risorsine ci abbiamo 6 milioncini e 7 milioncini di elisir allora per quanto riguarda l'elisir possiamo tranquillamente andarci a utilizzare su un bellissimo murettino per quanto riguarda l'oro signori l'oro io volendo vorrei io volendo vorrei che cosa sto dicendo mettere a fare questa capannetta qui del costruttore ma ci costa 9 milioni ci costano 9 milioni ci mancano 3 milioncini come possiamo reperire recuperare questi milioncini volendo possiamo anche utilizzarci giusto per 25 medagliettine qui abbiamo quasi quasi tutte le risorse per farci per farci la capannettina che direi interessante quante ce ne mancano ce ne mancano 800 mila fa benissimo signori 800 mila sono molto molto good io intanto metto in addestramento le altre truppettine e vi dico che ci vediamo tra pochissimo non appena le truppe sono pronte per fare il terzo ed ultimo attacchino presumo così ci mettiamo a fare anche la capannina e poi vediamo un pochettino quali sono le varie cosettine che possiamo ragionare bene 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 perfetto signori siamo tornati sono tutte pronte le truppettine ovviamente per fare l'attacco ancora più perfetto mi sono fatto un bel rinforzino di domatori ci facciamo un attacco alla vecchia maniera con la sputa tronchi che direi molto molto onesto cerchiamo un super mega villagione interessevole ci mettiamo la sputa tronchi si ma si dai ci mettiamo la sputa tronchi e ci cerchiamo un bel villagione che c'ha madonna questo c'ha belle risorsine signori questo c'ha belle risorse ma lì al centro probabilmente ci esplodono tutte le truppe perché ci sono tante vileno però a noi che ce frega noi dobbiamo fare 800.000 signori 800.000 dobbiamo farli molto molto tranquillamente io direi di piazzare inizialmente le nostre truppettine così ne mettiamo un pochettino e a pulizia laterale direi che ci aspettiamo un attimo perché appena buttano giù il bellissimo monolito e la eagle più che altro è interessante è importante è importante che la buttino giù re barbara diventa invisibile bravo possiamo dirigerci subitissimo all'attacco utilizziamo tutto quanto vai cadete giù domatori piazziamo tutto quanto il resto signori e siamo pronti abitate la terra e barbara la dobbiamo utilizzare subitissimo per forza adesso perché se no ci esplode male gelo gelo ce le piazziamo abitate il sorvegliante ce la mettiamo vai le furie vai spaccate tutto quello che c'è là al centro regà dovete distrugge qualsiasi cosa vai bravi barbarelli vi mettono anche in asalto qua così fuggite lontani fuggite sciocchi ok ci siamo vai con le gelo signori e ci siamo portati a casa tutte le risorsine tanto che ce frega delle tre stelle non ci interessa minimamente quindi che ce frega va benissimo così attiviamo l'abilità della queen e possiamo terminare signori anche questa battaglietta 9 milioni e 900 mila sono direi ottimali mettiamo in attestamento le prossime truppettine perché così facciamo un po' di farming insieme questo pomeriggio bello bello disonesto e dov'è la casettina del costruttore ce la mettiamo subitissimo signori e possiamo andare a utilizzare anche una bella posioncina del costruttore per velocizzare un pochettino il tutto abbiamo ancora due costruttori liberi che presto metteremo e due martellini delle costruzioni che quest'oggi utilizzeremo e ci stanno aspettando per queste due bellissime torri infernali signori e poi abbiamo quasi tutto max ci rimane soltanto le torri dello stregone e le torri bombardiere no scusate non è vero anche i mortagli e le tesla però tutto quanto di un livello quindi signori ci siamo molto molto vicini questo pomeriggio cerchiamo di fare tante tante belle cosettine insieme ovviamente signori che dire per questo video è tutto io voglio invitarvi a lasciare un bel like di supporto e un commentino con scritto soprattutto cosa ne pensate di questi miglioramenti se stiamo procedendo molto bene io devo riuscire a onorare la nostra sfida di avere tutto quanto maxed entro fine ottobre probabilmente i muri ci rimarranno va bene non è un problema l'importante è avere maxed tutte quante le difesine e poi i muretti ci rifacciamo in live che ci piace tanto ci fanno qualche chiacchierata e via ovviamente voglio invitarvi a condividere il video con i vostri amici importantissimi signori perché più stiamo è meglio e soprattutto ad iscrivervi al canale perché ho visto che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti a voi non costa nulla mi fate un piacere enorme immenso se attivate anche la campanellina rimanete sempre aggiornati su tutti i video e vado a pubblicare regolarmente dal martedì al sabato tutti i giorni 14.30 puntuali sul canale mi raccomando signori ovviamente se volete supportare il canale qui sotto in descrizione o accanto al mio nome trovate il pulsantino per gli abbonamenti potete scegliere quello che più vi piace e che più vi aggrada e soprattutto raga spaccate il pulsantino e scriviti perché siamo vicinissimi ai 3000 iscritti raggiungiamo questo piccolo obiettivo insieme se volete dare un'occhiata anche su instagram dove ogni tanto facciamo qualche sorellina dove vi avverto che è uscito un nuovo video vi avverto che saremo in live ringrazio tutti i nuovi abbonati al canale e soprattutto ogni tanto facciamo qualche piccolo spoiler misterioso magico e non lo so arcaico buttammoci parole a caso di progetti futuri del canale che secondo me è molto molto interessante e niente qui decidi se dallo spendi pazzo spendi tutto spendi milioncini gli cambiamo nome sempre penso che era mai il nome della serie e questo è tutto un salutone bella raga iscriviti al canale